allora non si vedrà assolutamente niente ma comunque il messaggio che conta sono appena tornato da un'uscita con un mio caro amico delle superiori con cui si mi trova molto bene semplicemente fare delle chiacchierate parlare del più e del meno e stavo riflettendo su un qualcosa che ho pensato negli ultimi giorni riguardante appunto ciò che mi fa stare più bene al momento nella mia vita cosa che potrei anche andare a definire come il mio scopo nella vita e cavolo mi rendo conto di come questa cosa sia l'aiutare le persone pensare che sto aiutando le persone e anche come diciamo psicologo consigli in generale di qualsiasi cosa ma proprio a livello proprio di chiacchierata e pensare che sono aperto e disposto ad ascoltare chi ho davanti con la massima umiltà con la massima apertura mentale non non cercando di dare una soluzione una risposta ai dubbi che hanno queste persone ma anche semplicemente ascoltando senza giudicare è veramente un qualcosa che mi fa sentire molto molto bene e forse ecco è anche il motivo per cui mamma mia per cui ho deciso di aprire questo canale youtube e ecco è anche il motivo per cui sto registrando un video alle 10 e un quarto con il cellulare in mezzo alla strada perché nonostante tutto strano ma vero anche strano per me questa cosa mi fa stare mi fa essere veramente grato di me contento felice e anche se insomma non è un qualcosa per cui guadagno non è un qualcosa per cui vengo pagato e mi fa mi fa veramente molto molto piacere e questa cosa ho visto che posso benissimo andare ad applicarla anche a tutto il discorso di agenzia di social media marketing infatti ormai da parecchi mesi mi rendo conto di come io preferisca avere un cliente soddisfatto a ottenerne di nuovi anche a discapito del fare più soldi perché comunque giustificato dal fatto che il cliente è più contento forse non è il cosa migliore da fare dal punto di vista dell'imprenditore che magari deve fare più soldi deve ottenere di più eccetera eccetera ma è come me la vivo meglio io quindi niente questa è la riflessione di oggi ma riflessione molto rapida e se sei interessato a fare una chiacchierata con me entrare in contatto con me a parlare di business parlare di qualsiasi cosa ti possa passare per la testa nella tua vita se mi hai trovato simpatico magari non in questo video negli altri puoi decidere di mandarmi un messaggio su instagram entrare in contatto con me sarò molto felice di fare una chiacchierata detto questo dalla strada è tutto chissà se mi ha visto qualcuno sicuramente no e basta bombazza iscrivetevi